Ma buonasera duellanti, siamo a Nexus di Gessate dove si è appena concluso il super torneo da 120 persone Da mio fratello Ambrose 120 persone magari no, però abbiamo il vincitore del torneo che non è vero Ha vinto Marco Con il mazzo Divazombi Link in descrizione, canale telegram, trovate tutti i link utili del negozio Per raggiungere, mi raccomando, martedì, oggi è martedì, giusto? Oggi è martedì, sì Oggi è il 9, martedì 9 Martedì a Pierculo Pierculo, no vabbè ci sta, martedì c'è il torneo Vediamo la decliste che è arrivata Volete essere fighi come chi? Che carta, che carta, dove è? Come questo, ma che bello Giriamolo, mentitore Piccolo spoiler Vabbè ma sappiamo che Divazombi c'è Allora Ricordiamo che Tropius è lo spacciatore delle coreane Il King delle coreane Lo vedremo Uno tra l'altro ha detto che Mattia mi sembra simpatico No, uno ha scritto Mattia sempre nei video Io non so cosa voglia Vabbè, andiamo avanti con la profile Dire Mattia sempre nei video Trecaius Perché? Ovviamente Trecaius, carta più forte del formato Cioè, guardate che belle queste carte Secret Americano Ha fatto il mazzo solo per queste carte Esatto Guardate Guardate che belle Giocate solo per Perché sono belle Che carte della madonna Due zombie goblin Da realizzare Perché sono un po' troppo Infatti lo copriamo L'altro ci sta Coreano È già stato ordinato Per rimpiazzarlo Comodoro di Ambrose Non è il suo C'è la Mattia Però è uguale Porta praticamente metà mazzo Sì, esatto Lo zoomiamo Poi abbiamo L'altra parte del mazzo Solo due diva Senza Due diva Cioè, mica pazzoide Cioè, qua pazzoide Se peschiamo due diva Qua male Sì, sì E la bravura sta nel Però almeno Certo La bravura Non so se chiamate la bravura È anche un po' Un pizzico di fortuna Il monogay È americano Americano E quindi va Bellissimo Va giocato Sì Poi Gorz Gorz Carta più forte Soldado card Che bella Truppa della... No, no Soldado card È il nome spagnolo L'ho venduta io Soldado card E qua arriva L'NVP E prima OCG Ma che bello Il Reaper OCG Che bello Guardate qua Prende ancora più forza Dal fatto che Questo scarta due Questo rinchiude No In cantina Tecchino sa l'effetto Può essere trattato In non sapere il... Comunque in quella cantina Ci sono un sacco di cose Ci sono C'è anche Reaper C'è anche Mattia in cantina Cosa? Poi Daz Che cazzo Daz Daz Un tore Un tore classico Un tore che è qua Ma che schifo Che merda Che porco di... Vabbè Cosa si vede? No, si sfoca Vabbè Ma non si sfoca Si vedeva benissimo purtroppo Mezzuki Maestro zombie Vabbè Super Classiche del zombie No No E in prima Tive è difficilissimo Da trovare Ce l'ho io In prima? Un traguedia che è stato inutile Verrà tagliato Verrà tolta Perché Diciamo che il mazzo è forte Quindi tagliamo tutte le carte Sennò che cazzo Però fai là Verrà tolta Vabbè Ci sta Vai avanti Andiamo le magie Sono super ma non si vedono Carte forti Super da speed duel Super da speed duel Perché si sono da speed duel Il nome è bello Quelli verranno rimpiazzati con altri belli Un fascino classico E poi andiamo Tempest Tifone Alle magie classiche Guardate che bello brain Brain coreano C'è un altro così? Perfetto Se vedete coreane Mi raccomando Spreete sul telegram Tropius Lo trovate È mio fratello Mio fratello Tropius E L'ultima parte delle magie Due Instance Con cui chiamiamo Il ragazzone qua Che bella carta Anche questo è peggio di Ripper Puoi trassare di più Esatto Ancora meno Quello è più forte Abbiamo avanti Le trappole Abbiamo Quattro Che è bellissima Così Tra l'altro Con le cose brutte Con le classiche staple Un po' Chi gioca In tutti i mazzi Esattamente Ci sa Coreana Bella Preso anch'io La settimana scuola No L'omenica Preso tutto Preso tutto Questa è una scelta particolare Doppio tornado Dill main Doppio tornado Spiegaci Allora L'ho giocata perché Quando riesco Punto A giocare il mazzo In maniera Subito Più possibile Aggressiva Quindi voglio avere La board Libera Turbo Diciamo Esatto Cioè se ho in mano Instant Voglio cercare Che almeno la fusione Entri E non subisca Botomers Ok ci sta Ci sta Poi Oddio se le peschi Tipo a top deck Eh quello è Ci sta lo stesso È migliorare Però comunque La trappolina Che è pure foil Che è pure super raro Ciò vuole vedere L'extra deck Signori della corte Signori Signori della corte Abbiamo Il vroom delle stefano Questo c'era giusto Sì Ma Carta del dottor de bonis Questa Esatto Questo è sbustato Non si ha Sbucciato Il rappresentante Il torneo di flavia Sbucciato Non si può giocare Cioè si può Ci puoi chiudere Androide Magico Coreano Questo Il drago rosso Coreano Salutiamo Red Drago Francese Questo non posso neanche Dragon Chain The Fair Dragon Chain The Fair Drago rosa nera Coreano Guardiano Goio Coreano Dark and Dragon Coreano Non è assolutamente vero Non sono tutte coreane Però è questa Ah ok Perché lo chiami di instant E poi Un re musicista No Cosa è che c'è Dragao do foco Dragao do foco No Primera edissao Scelta apposta Per la lingua Ecco Lo sapevo io Questa fa tipo Come Donde sta Libro No 12 Nel Querto Sembra A lui che non ce l'avevamo Attenzione Tra questi due cosa scegli Icardi e vandanari L'infame E la bocchina E la bocchina No Ci dissociamo da questa cosa In card in Turchia Non è che ci dissociamo La cosa vera Quanto sei veloce Tu con i movimenti La side come al solito Come ben sapete È È personale È personale Ognuno mette quella che cazzo vuole Quindi Però beh alla fine Quelle classiche Sono 7 e 2 7 e 2 7 ci piace Perché c'è R7 Ti facciamo vedere anche la cosa Ok va bene Abbiamo 3 tatami 3 di cui uno La coupon sulle piedi La coupon sulle piedi Oh porco diio Fossil Dainabakh È brio Nacmang È un po' 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 Sì 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 La tina di ferro Non si può La tina di ferro Ma La tina di ferro La tina di ferro La tina di ferro No io avrei levato Sai che cosa Dragau di fuoco nero Oh Breaker Breaker che è coreano Raga No ce n'è una ancora più perda Con pulso Revacuation device Due strap stun Bellissimi Perché è mono Thunder Stefano Perché Thunder Stefano comunque Non sapeva cosa mettere Mi sembrava forte Contro la nera Monoprison Un po' rottina Contro la nera E questo Contro Dragon Turbo E Dragon Turbo Fa paura Comunque C'è una carta Un mazzo un po' Spice Un po' Strat Va bene Abbiamo finito la profile Ringraziamo il Dottor Tropius Ringraziamo il Dottor Tropius Se volete delle coreane Scrivete nei commenti Che carta Coreane di quali età Però aspetta Di quali età Stai Dai 5 ai 10 anni Legate No No Siamo da tutto Ciao ragazzi Ci vediamo nel prossimo video E porco Dio E tutti quanti Bella Guarda che schifo Di giocatore Bella Sempre 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 Perché lo vogliono nei video Per quello Bella 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 Grazie a tutti, ragazzi.